Ed eccoci qua, Sara Simeoni, veramente un piacere stand del Soave, però lei il legame col Soave ce l'ha dentro nel sangue, perché? Ma ce l'ho nel sangue, un po' perché sono stata fatta castellana di sua via, quindi insomma è un piacere e poi insomma tutto quello che riguarda la nostra zona, il Soave rappresenta un'eccellenza nostra nel mondo e quindi perché non trovarsi qui con piacere a degustare e a dire che è veramente un buon prodotto, ecco. Ecco, per uno sportivo bere vino comunque bello moderatamente può giovare? Lei come è stato il suo rapporto adesso in questo caso con il vino anche quando faceva proprio sport agonistico? Senta, intanto dico un veneto astemio, no, diventa dura. Non esiste? No, no, a parte quello. Io vengo da una famiglia che ha avuto un'azienda agricola e quindi produttore di vino e chiaramente il vino faceva parte e sulla tavola c'era. Io credo che, non me lo sono fatto mancare neanche quando facevo l'atleta, chiaramente nelle giuste dosi perché il problema sta sempre in linea. Un bicchiere di vino ci sta sempre. No, poi tra l'altro o per brindare e festeggiare o per dimenticare è comunque la scusa. Grazie mille. Prego. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.